tra il braccetto del caffè e il resto della caffettiera c'è una guarnizione questa ogni tanto la stacchiamo e laviamo con il getto d'acqua in modo che si tolga quel caffè in polvere che può rimanere lì ecco la guarnizione è una guarnizione di alta qualità anche quando è vecchia e ha fatto 100.000 caffè non si cambia è sempre elastica quando è nuova e bianca eccola quella vecchia ma sono perfettamente elastiche entrambi